Ci prendiamo un caffè, maestro? Prendiamoci un caffè. Prendiamoci un caffè. Io mi chiamo Pasquale Caffire, so brigadiere del carcere in Ero. Io mi chiamo Caffiero Pasquale, sta poggia reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento uno straccio. Per fortuna che abbraccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti e lacchè. Tutto loro, Gustafo e Danzia, chi sputa minaccia e sta piglio con me. Ma alla fine mi assetto papale, mi sbottono e mi leggo il giornale. Mi confronto con Don Raffae, mi spiego che pensa e papimmo caffè. Ah, che bello caffè, pure in calcio rossanna fa. Caricetta, caci, ciranella, compagna di cella, charata mamma. Ah, che bello caffè, pure in calcio rossanna fa. Caricetta, caci, ciranella, compagna di cella, precisa mamma. Maestro, come la faccio questa? Tutta di un fiato. Senza respirare? Tutta di un fiato. Sei pronto? Qui non c'è più decoro, le cacce in l'innore, ma chi l'ha mai visti chissà, i caghi sono faticenti per chi stifetti enti se tengono l'immunità. Don Raffae e voi politicamente, io ve lo giuro sarebbe un'usante. Ma cadente voi state a pagà, e fuori chi state se stanno a spassà. A proposita, tengo un'ufrata che da 15 anni sta disoccupata, già sai chi l'ha fatta 40 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Quei che date con forte lavoro, eminenza, vi faccio, vi imploro. Chi lo dormo con mamma e con me, che ha crema d'arabia, che ha chissù caffè. Chi lo dormo con mamma e con me, che ha chissà.